Angelo Martini, ideatore di Miss Portorotondo, quali sono le prospettive di questo concorso e come mai è nato? Innanzitutto è nato perché mio padre mi portava in vacanza da piccolo, al Cala di Volpe, a Golfaranci. Io sono rimasto folgorato dalla Sardegna, ma non solo per il mare, la bellezza del mare che è scontato di dire che è blu e pulito. Proprio l'introterra della Sardegna, questi colori tenui, rosa, che mi fanno impazzire. Miss Portorotondo 2010, la numero Cornelia Calinato, la numero 14! Blame it on the girls, blame it on the boys! Non lo so, non lo so, toco così un po' all'improvviso, non lo saprei. A chi dedichi questa vittoria? A tutti qui presenti, soprattutto la mia mamma. Seconda classificata Miss Portorotondo 2010, Francesca. Una fascia comunque importante, Miss Portorotondo Cinema. Vero? Sei emozionata? Sei contenta? Sì, a dire la verità, non volevo neanche partecipare, però alla fine è stata bella.